Alimentazione biologica, turismo consapevole, energie rinnovabili, prodotti ecosolidali e tanto altro ancora. I temi legati a uno stile di vita responsabile, etico ed ecologico sono al centro di Green World, la fiera del vivere sostenibile in programma a Carrara dal 31 ottobre al 3 novembre. La manifestazione è inserita all'interno del Festival dell'Oriente, evento unico in Italia per conoscere e immergersi nelle culture e nelle tradizioni dello sconfinato continente asiatico.